e bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video dopo tantissimo tempo siamo qui su fortnite finalmente dopo quattro settimane quasi un mese vi porto un video dopo tanto tempo su fortnite e va bene allora vi ricordo di lasciare like scrivere canale e attivare la campanella per non perdervi i video poi possiamo iniziare siamo iniziare forse devo abbassare un po ok ci siamo con grava scrivetemi nei commenti se vi piace questa nuova season e niente comunque dici like vanno bene dici like aspetta devo abbassare un po effetti sonori ehi tu ok ok andiamo no qua andiamo sabbia la mia città preferita se volete sapere è torri bislac per ora prima era sabbia noi torri perché sembra una pinnacoli pendente però cioè non è proprio completo ok ok 96 persone vediamo se vedi qualcuno cosa no è un problema perché io voglio fai torri diciamo andiamo qua se ce la facciamo qua ok cassa ok ok andiamo sopra vediamo se c'è qualche cassa per forzire ah no è vero stanno sopra mi ricordo mi ricordo che stavo qua con una cassa eccolo eccolo ok 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 qua una cassa ok qua una cassa si cd come avete potuto vedere sono da xbox perchè praticamente io giocavo con la vecchia xbox che era la 360 e quindi non è che non mi piace la prima non mi trovo con i tasti ok adesso ce lo prendiamo andiamo giù ok apri qua no io gente oh lo vedo wow prendiamo un veicolo e ce ne andiamo quello è bloccato questo è bloccato quello è bloccato oh tutto è bloccato ah c'è una con cui parlare macchina gialla aspetta che ando dopo come ci sto non abbiamo le casse non fa niente no copyright ok grazie riuscirò ad uscire chissà dai voglio uscire grazie grazie investigatore taglio per mostro non nevece norsi personaggi taglio per un nemico ehm ok ok dobbiamo andare elimina ma che è un marocco taglio what what non ho capito niente comunque raga non posso ancora fare le live perché devo arrivare a mille iscritti e vabbè ce la faremo ok c'è qualcuno a torri cosa raga la patente non ce l'ho che gente gente no zino no non ci vuol no trentatrisimo vabbè ma c'è un'altra che sta partita non ha fatto poco niente ok qui raga me la cava a giocare no non proprio fortissimo ma me la cavo ok raga arriviamo a dici like se volete che io vi porti o warzone o rocket league scrivetemelo nei commenti se volete o warzone o rocket league la scelta è vostra però non so se si può scrivere perché non so se ho messo l'impostazione di scrivere nei commenti se non l'ho messo sono allora dove andiamo colosse andiamo qua non conosco no un po' sull'isola genere cosa non mi scuso torri bislac o bruggele bronzo lago no 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 cova una cova ok ok non ho subito qua sopra dai ma qua c'è per forza agenda oh qui c'è la prima persona non 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 un po' di spam ce la faccio non 2 kill bellissime e via c'è visto gente no no c'è 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 Ma che è? Falco nella notte, aspettate Sto capendo niente Ok C'è tre medici che t'aveva Ok Cos'è? Ve la prendo A posto del cieco che non lo so usare Scusatemi ma non lo so usare Cioè, veramente Faccio pena con il cieco Ma dobbiamo provare sulla gente Sto cosa Falco della notte Rarità esotica Dobbiamo solo trovare Gente Tendiamo un motoscafo E ce ne andiamo Andiamo a Torri Andiamo a Torri Andiamo a Torri Oh Oddio Che ci fai qua? Vabbè 44 Buono Cioè, non buono perché È una pistola però Cioè Come dire Buono 44 Nel colpo è buono comunque Non mi traietto migliore? Sì Poi Vabbè la scambiamo va Ci provo perché Non sono tanto bravo nel cecchino Due airdrop Uno Altro È sceso È sceso Altro è sceso Giusto? Andiamo qua Non mi interessa No Scarga Ce l'ho già Ma fa niente A parte di shield Vediamo che ce l'ho Però vedete ci sono shieldone Se no mi faccio il Scamon Vediamo che c'è Ok Shieldone Allora Spacco Spacco Sti cosi Ok Prendiamo il cristallo Qua Che ci fa andare veloci Se saltate Cioè Va a fare tipo Uno scatto Non so come chiamarlo Scatto Boom Qua Vabbè Shieldini Comunque la mia arma preferita È Il tattico Il tattico Perché è troppo forte Per me Questo è bloccato Andiamo a porco C'è gente a porco Però Prendiamo prima Sta cesto Poi andiamo A fai dare la gente La Preso Pre Ah una scagnozza Ma non ho capito Sulla di scagnozza Guardia di hoi Ma sono le guardie Vabbè 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 Non è la stra Ok Motoschifo Motoschifo C'è un motoschifo Oh Salve Attenzione Attenzione Dove va Vabbè 10 persone Cos'ho trovato No 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 Dov'è Muori Tu che è il pass battaglia Non ce l'ho Ma fa niente Oddio Dov'è la gente Là No Dov'è Però dura un botto Sto video 25 minuti Tipo Eh vabbè Non fa niente Guarda che vuol fare Carica Spara Uno Eh vabbè Lama Uno Lo carissimo Lama Aspettate raga Ho una tattica Ok Questa tattica Si poteva fare Con il rift To go E niente No 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 Ora no Muori Quattro persone Quattro persone Non fa niente In solito Dura Mezz'ora Non mi piace la cappa Anche se Vorrei prendere Oh Miascolo Miascolo Ma no Ha ancora chiuso Non mi ascolo Basta 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 Dai 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 Che ha Ok Un minuto Bella Safe Dobbiamo andare In safe Subito Ok Ok Materiali Full materiali Possiamo andare Ok Mi avventa Oh Sta andando Da là Ma 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 Quell'amore Non ho capito Quell'amore Dalla safe No Muori No Muori Muori Cura Build a caso Ok Ci siamo quasi Cildini 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 beast Headshot Headshot Signori Me la clip Cosa ho fatto Oh Mio dio Che vittoria Raga spero che questo video vi sia piaciuto Come sempre 10 like Iscrivetevi al canale E la campanellina E' importante per la vittoria reale Vado che odd shot ho fatto 275 Ho fatto Oh 26 minuti Vabbè Noi ci vediamo a un prossimo video Bella ragazzi